lo spirito santo è colui che crea l'armonia l'armonia e la crea a partire da realtà differenti a volte anche conflittuali oggi festa di pentecoste preghiamo lo spirito santo amore del padre del figlio perché crei armonia nei cuori armonia nelle famiglie armonia nella società armonia nel mondo intero che lo spirito faccia crescere la comunione e la fraternità tra cristiani delle diverse confessioni doni ai governanti il coraggio di compiere gesti di dialogo che conducono a porre fine alle guerre le guerre tante oggi pensiamo in ucraina il mio pensiero va in particolare alla città di che ha subito un attacco due giorni fa pensiamo alla terra santa la palestina israeli pensiamo tante porte dove ci sono le guerre che lo spirito porti ai responsabili delle nazioni a tutti noi ad aprire porte di pace a direi a a a Grazie a tutti.